Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Abbiamo ripercorso con un lungo ciclo di video l'epopea delle meteore e bidoni della serie A, stranieri che non sono riusciti a fare la differenza, in alcuni casi dando vita a vere e proprie esperienze tragicomiche. È giusto però anche ricordare quei calciatori stranieri che, soprattutto all'epoca dell'invasione degli anni Ottanta, hanno lasciato un segno indelebile in piazze che rappresentano il nobile calcio di provincia della serie A, in quegli anni immediatamente identificabili nei volti di quei campioni venuti da lontano per venire a giocare sì in Italia, ma fuori dal calcio delle grandi metropoli. Stranieri di provincia, storie e volti iconici del calcio anni Ottanta Walter Schachner Walter Schachner, uno dei leggendari calciatori degli anni Ottanta, è stato indiscutibilmente uno dei migliori giocatori nella storia del calcio austriaco. Era un attaccante veloce e potente, classe 1957, e approdato in Italia nel 1981 grazie a un'intuizione di Renato Lucchi. Il suo trasferimento costò 700 milioni di lire. La sua esperienza italiana in serie A si è divisa così, due stagioni al Cesena, poi tre al Torino e altre due all'Avellino. Ha concluso la sua carriera all'età di 41 anni tornando in Austria. È soprattutto grazie ai suoi gol, 9 su 28 presenze, che il Cesena, al termine della stagione 1981-82, ha conquistato una salvezza indimenticabile. Tuttavia, le sue 30 presenze e 8 reti nel campionato successivo, non sono state sufficienti per evitare una dolorosa retrocessione in serie B ai Romagnoli. A Cesena, Schachner ha segnato numerosi gol indimenticabili. In particolare, va ricordata la doppietta contro la Juventus alla Fiorita, realizzata il 23 gennaio 1983, con il portiere Zoff messo a sedere, dopo una delle sue caratteristiche cavalcate verso la porta. Johnny Ekstrom Johnny Ekstrom è stato uno dei protagonisti del Göteborg degli anni Ottanta, in grado di ottenere vittorie anche a livello europeo. Quando fu acquistato dall'Empoli nel 1986, divenne il calciatore svedese più costoso della storia. Arrivò all'aeroporto di Pisa, seguito da 10 giornalisti svedesi. Tuttavia, nella sua esperienza in tre stagioni nel campionato italiano, come attaccante segnò solo nove gol e non riuscì a imporsi come una scelta di primo piano. Ad Empoli ci furono pochi momenti di gloria e molte delusioni. La partita più ricordata per lui è senza dubbio quella contro la Juventus, conclusasi con una vittoria leggendaria per i toscani, col punteggio di 1-0 grazie a un gol da lui segnato alla seconda giornata della stagione 1987-88, la seconda in assoluto dell'Empoli in Serie A, dopo la salvezza conquistata l'anno precedente. Dopo dieci minuti, nella ripresa, in una di queste azioni tipiche, ecco Ekstrom che fa l'1-0 e stordisce la squadra bianconera. Alla Juve è mancata dunque la lucidità consueta, un campo non tutto era sempre ben ordinato. La seconda fu la sua migliore annata in Serie A a livello personale, con cinque gol segnati, ma i biancazzurri retrocessero in Serie B, arrivando all'ultimo posto anche a causa di una penalizzazione di cinque punti. Fu poi ceduta al Bayern Monaco, affrontando anche l'Inter in uno storico incrocio di Coppa UEFA. Glenn Stromberg Nel 1984, un'iconica figura straniera approda l'Atalanta, il vichingo Glenn Stromberg. Nonostante le difficoltà iniziali di adattamento, Stromberg dimostra sin da subito di essere un giocatore prezioso per i nerazzurri, centrocampista di piede destro di quantità e qualità. Nel 1987, tuttavia, i bergamaschi retrocedono in Serie B, ma è proprio durante l'anno trascorso nella Serie Cadetta che avviene la svolta per il gigante svedese. Con Emiliano Mondonico come allenatore, Stromberg diventa il capitano e leader della squadra, guidandola al ritorno in Serie A e alla semifinale di Coppa delle Coppe. Ai suoi lunghi capelli biondi, aggiunge Barba e Baffi, che gli conferivano un'aria da duro, e lo rendevano uno dei giocatori più iconici della Serie A in quegli anni. Una figurina inconfondibile nell'album Panini. Stromberg, al di là dell'immagine di duro, mostra un cuore tenero e, rinunciando alle offerte più allettanti, decide di rimanere a Bergamo fino al termine della sua carriera nel 1992, consegnandosi all'eternità della leggenda del club orobico. Dan Corneliusson Pronunciare il nome di Dan Corneliusson fa immediatamente venire in mente l'epoca del Como in Serie A, una squadra provinciale che negli anni Ottanta però sedeva al tavolo dei grandi, quattro salvezze consecutive e la scoperta di numerosi talenti. In attacco, una costante, proprio lo svedese, arrivato nell'estate del 1984, fresco di vittoria del campionato tedesco. È rimasto al Como fino al 1989, l'anno della retrocessione dalla massima serie, collezionando complessivamente 112 presenze e segnando 18 gol. Oggi il calcio per Corneliusson ha lasciato spazio a una nuova vita. In un'intervista raccontato, Attualmente vivo nella mia Svezia, a Göteborg. Da 15 anni svolgo l'attività di amministratore di condominio, gestisco 15 complessi, ovviamente. È un impiego a tempo pieno per me. Wim Kift Una scarpa d'oro a Pisa. Nell'estate del 1983, Wim Kift approdò a Pisa con un prestigioso premio in mano, aspettative ancora più grandi sulle sue spalle. I suoi gol nell'anno precedente, quando segnò 32 reti in 34 partite in campionato, lo avevano fatto emergere come uno dei migliori attaccanti d'Europa a soli 20 anni, meritando il premio della scarpa d'oro europea, come miglior goleador del continente. Tuttavia, la prima metà della stagione 1983-84 fu deludente. Kift faticava a integrarsi nel gioco di squadra, nonostante l'appoggio continuo dell'allenatore Luis Vinicio. La prima rete fu il gol del 2-0, il 19 febbraio 1984, alla ventesima giornata, quando il Pisa affrontò il Catania all'arena Garibaldi. Nonostante la deludente stagione, il Pisa decise di puntare nuovamente sul ragazzo proveniente dall'Ajax, affidandogli ancora l'attacco nero-azzurro nella stagione successiva. E tutto cambiò. I toscani trionfarono nel campionato di Serie B, anche grazie a una potenza d'attacco incredibile, con 52 gol segnati, dei quali 15 da parte di Kift, che andò a comporre un tridente d'attacco con Baldieri e Berggren, che conquistò il cuore degli appassionati pisani. Nella stagione successiva, in Serie A, Kift finalmente si affermò anche nel palcoscenico principale, segnò 7 gol nel massimo campionato, bottino non trascurabile, nell'Arcigna Serie A dell'epoca, ma non riuscì a evitare una nuova retrocessione del Pisa in Serie B. E tu, ricordi altri stranieri di provincia meritevoli di essere ricordati? Scrivi le tue segnalazioni nei commenti e questo video potrebbe avere presto un secondo capitolo. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale, per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!